buon pomeriggio amici amiche di nova news 24 una nuova puntata dell'isola dei motori sta per iniziare domani sera vladimir luxuri insieme a sona blu ganelli a dario maltese daranno vita rono a grande è sicuramente spettacolare puntata dell'isola dei famosi intanto proprio le notizie sull'isola corrono anche i sondaggi soprattutto quelli ma attenzione perché c'è qualcuno che ormai ha avuto proprio un crollo psicologico e mancano ancora tantissimi giorni appena iniziata e già qualcuno rischia il crollo psicologico ma intanto vi parliamo subito dei nuovi sondaggi e di quello che sta succedendo intanto vi diciamo che i partecipanti al sondaggio aumentano 15 più probabilità di questo sondaggio dica il vero partiamo dalla testa della classifica che di che gli è in testa col 32.19 per cento guadagnando tanti consensi del pubblico lei che è stata ovviamente su instagram molto attiva e sui social ovviamente può contare sui suoi fan per le votazioni secondo posto per luce caponegro in arte selen terzo posto per samuel peron ma attenzione questo è il primo colpo di scena in questo sondaggio samuel peron e luce caponegro hanno esattamente la stessa percentuale 28.08 quindi c'è un ex equo e proprio queste ex equo quindi tra i due metterebbe in risalto quella che è ancora l'incertezza del pubblico le seguire un personaggio piuttosto che un altro l'ultimo posto ovviamente senza ombra di dubbio è occupato da colui che ha meno rilevanza sui social stiamo parlando del pesci vendolo beppe di napoli peppe di napoli ovviamente peppe o beppe per gli amici come lo volete ovviamente chiamare ma beppe è sicuramente all'undici punto 64 per cento ed è staccatissimo da tutti gli altri quindi sembrerebbe lui il primo ad essere eliminato ricordiamo e questo ci teniamo a sottolinearlo che non ci sarà una ultima isola quest'anno ma chi arriverà ultimo verrà direttamente eliminato già ovviamente in puntata e questa volta probabilmente ci sarà l'eliminazione definitiva anche perché la prima settimana è filata abbastanza liscia per tutti i naufraghi diteci amici di nova news 24 cosa ne pensate voi chi è il vostro preferito chi preferite tra peppe di napoli samuel peron luce caponegro e chiedi che gli è e intanto se vi è piaciuto questo articolo mettete sempre il pollice in su e seguiteci su nova news 24